Regino Marchesini, Consorzio Pescatori Scaldovari, come è la situazione ad oggi, febbraio 2024? La situazione di oggi è veramente drammatica, anche perché abbiamo, nell'ultimo CDA del Consorzio, abbiamo sospeso la pesca fino ad attestinarci proprio perché siamo a corto di prodotto, prodotto non ce n'è più e come avevamo detto tempo fa abbiamo esaurito delle nostre garagie. Parlando di numeri, voi almeno ci avete comunicato, siete passati da 330 quintali al giorno a 15 quintali al giorno di raccolta. Questo cosa implica? Implica sicuramente matanza di reddito accaduta dai consorzi, agli cooperativi e soprattutto i pescatori perché pochissimi pescatori avevano in questi due mesi il pescato e naturalmente i guadagni del consorzio, delle cooperative e gli stessi pescatori sono ovviamente al disarmo completo. Basta pensare che dicembre il consorzio ha fatto il minimo storico, 160 quintali, a differenza dei 12, 15 e miglia quintali di dicembre. Quindi basta pensare lì che la drammaticità che c'è stata negli ultimi mesi, quindi di conseguenza siamo un po' al disarmo. Quindi a questo punto cosa chiedete perlomeno alla regione o a Roma? Sicuramente a Roma sperava che già in questi giorni dichiarasse il suo benedetto stato di calamità, quindi si andava in emergenza, si andava naturalmente a, come avevamo detto più volte, a bloccare molti dei primi casi, finanziamenti, quant'altro, quelli previdenziali, ma naturalmente anche tentare di fare un piano di cattura di questa specie perché non ha predatori, quindi l'unico predatore è l'uomo, quindi di conseguenza era di incentivare i pescatori che pescassero questa specie per portare, diciamo, la curva non in salita ma in discesa e riportare un po' come era il sistema ambientale prima. Ecco, una volta deve dato il gracchio, se ce la farete, quanto è l'investimento che dovete fare per ripopolare? È un investimento molto importante, di sicuro. Naturalmente se dovesse riportarsi l'alune con i numeri di gracchi che c'erano prima, anche nel 2020, magari che c'era qualche avvistamento o qualcosa altro, noi facciamo conto sicuramente sulla vovola che nasce qua nelle nostre alune dove ci ha sempre dato seme e quindi si ripopoliano da soli. Dopo noi andavamo ad integrare qualche seme che si acquistava dal consorzio e gli si ripartiva. Naturalmente la vovola a Verace, se in primavera, facciamo un esempio, dovesse sparire il gracchio e nasce la nostra vovola a Verace, e serve naturalmente un 14-15 mesi per poterlo raccogliere. Quindi il 2024 è completamente perduto e sperate perlomeno di recuperare il 2025 o c'è anche questo problema? Beh, tanto bisogna guardare il 2024 e guardare di fare misure apposite per poter tentare di salvare i salvabili. e però può anche, nel discorso del 2025, un po', diciamo, troppo lontano per poter fare una previsione secondo il mio punto di vista. I pescatori come stanno affrontando questo problema? I pescatori sono, ripeto, disperati, perché, ripeto, le banche continuano a chiamare, che hanno tutti quanti, una buona parte dei pescatori hanno molti dei primi casi, e sappiamo benissimo che se non si paga in uto, naturalmente la banca dopo due o tre volte comincia a interviene, quindi non vorrei che le banche diventasse un'agenzia immobiliare a differenza dei propri diritti, sia per poter, cioè serve un aiuto naturalmente immediato per bloccare quello che devono pagare, perché altrimenti diventa un problema enorme sociale, come è già successo anche dopo il tempo fa, qualche disastro, insomma, in giro. Nelle manifestazioni i pescatori del suo comparto hanno dimostrato una certa tranquillità, per lo vero. Secondo lei riusciranno a mantenere questa tranquillità, oppure c'è qualche sentore di un nervosismo crescente? Beh, quello che mi è perso di capire, insomma, un po' ancora di fiducia, un volume di fiducia ci hanno nei confronti, insomma, delle istituzioni. Se si ritarda, si ritarda di arrivare a questi aiuti, sicuramente si perde la fiducia dopo. E come sappiamo, quando la gente non ha soldi, diventa un problema veramente... Spera aumentare il nervosismo. Esatto, aumenta il nervosismo, aumenta, sapete, sappiamo benissimo come succede anche negli altri settori, che disastri un po' sociali, ecco. Spera aumentare il tempo.